Cuuu... 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 Eee... Ti fanno gioveee? Di lippacca war i cori! no 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 . . . Inizia mi sottile... ...te osobno che abbiamo chiesto! Abbiamo chiesto e così! Di지ò le letture! No, ci sono e loro, ci sono quelle del holo la Fai Cokouno! C'è cui parla? Cuo parla a noi, è il tipo di parla di Mathangani? Si, come in assieme la mia vita! Tantone! Mi ha fatto tutto, non ci sentiamo! No non capta! Ma non ci sono nelle кровi! Per me diciamo che ci mettiamo i montoni, a però. Supercalifragilistice SPLE, 2... Dada. Ok, dada. Supercalifragilistice SPLE... No! Che cosa è? Non ho chiamato a dire i morti, ove non è che? Non ho chiamato a dire i morti. Dada, dada, dada. Ok, ok. Che ecc. Sperren, sperren... Maia! Ah, che non ti chiede Ishanu? Ah, che non ti ponte? Ah, ah! Che non d'armano! Per la tutta chi non mi guardo? Si che non d'armano? Si, che non vede? Ah, che non conosce! No, è dono? Poi di. Ok, ok. - l'elema si ma comen